Chiedo scusa, avevo capito che avesse ritirato l'intervento, chiedo scusa. E' ritirata la mozione, chiamiamola successiva, la numero 35, a firma Alzetta e Azzuni, impegno per il sindaco della giunta a promuovere l'iniziativa necessaria affinché gli impianti del polo natatorio dei mondali di nuoto siano realizzati in una sede diversa dal lungomare di Ostia. Alzetta, Andrea. Onorevole Alzetta, vuole intervenire sulla mozione? Chiediamo la sospensione di due minuti per integrarla con un emendamento da consegnare al tavolo. Un emendamento alla mozione? Senza, anche senza sospensione, basta. Avete modificato il testo? No, anche è l'emendamento. L'emendamento? Dove sta l'emendamento? Non è che mi modificiamo, io mi so che quella è l'emendamento. Allora, allora, ridò... Allora, continuiamo la discussione, ridò la parola all'onorevole Alzetta, ne ha facoltà per dieci minuti. A lei la parola, ne ha facoltà. Allora, su questa mozione... Colleghi, colleghi, colleghi... Crediamo che... Per cortecina non ascolta... Per cortecina non ascolta... Perché crediamo che non possa ripetersi una storia già vista in occasione dei mondiali 90, in occasione del giubileo, tutti i grandi eventi che invece di arricchire la città, arricchiscono i soliti nodi, perché questi mondiali 90, invece di diventare l'occasione per accrescere l'offerta pubblica, per la tutela della salute, la tutela dello sport, diventano invece occasione per la speculazione. C'è il sito che è stato scelto sul lungo termine di Ostia, fa il favore a Papagni, a vari signori che non rappresentano certamente la città, i cittadini di Ostia, ma rappresentano degli interessi particolari. Per cui i comitati vogliono invece che queste risorse non vengano disperse, ma si possa decidere un'alta localizzazione delle alternative, perché queste risorse diventano una risorsa per i cittadini e non per i soliti nodi. In più vi ricordo, soprattutto ai colleghi del centro-destra, che il municipio 13 ha votato contro la localizzazione sul lungo termine di Ostia, di quell'impianto. Per cui non si capisce come mai c'è un voto della giunta di centro-destra che chiede appunto la sospensione di quei lavori e c'è un atteggiamento che mi fa capire che invece il parere del centro-destra in quest'aula è di natura diversa. Inoltre, credo che quello che oggi presenterà qualcuno, che già ci ha annunciato negli incontri, cioè che i lavori saranno ultimati per la realizzazione dei mondiali, sia una falsità, sia una falsità anche se firmata da Rinaldi, perché sappiamo perfettamente che oggi sono state bloccate le buste per l'assegnazione degli appalti, per cui i lavori non continuano, per cui è una presa in giro ai cittadini, non solo quelli che stanno qua, ma anche quelli che appunto non stanno qua, ma stanno a Ostia e già vivono in una situazione di un traffico terribile. Quell'impianto, se fatto così come da progetto, impedirà a coloro che vivono appena ridosso del lungomare di vedere, perché prevede un muro lungo 15 metri per un chilometro, prevede tre piscine, una foresteria gigantesca, che non diventano appunto poi strumento di gestione pubblica, ma diventano strumento di gestione privatistico. Inoltre, credo che sia pericoloso quello che c'è scritto a firma di Rinaldi, che appunto ci dice che faranno lavorare anche di notte, perché è ipocrita che noi qualche volta chiediamo il silenzio per le morti sul lavoro, quando pretendiamo di fare delle grandi opere come quella appunto di Ostia, in tempi che non stanno né in cielo né in terra, perché significa non rispettare le persone che ci lavorano, significa che avrete sulla coscienza eventuali morti sul lavoro, perché non è possibile accettare che queste grandi occasioni di intervento governate dal pubblico diventino invece appunto occasioni di arricchimento e diventino occasioni di sfruttamento. Per questo chiedo anche ai colleghi del centro-destra innanzitutto una coerenza con quello che avete scelto a livello locale. E secondo, chiedo veramente una discontinuità con quel modello che è stato portato avanti fino a oggi. Allora dite che voi avete fatto la campagna elettorale contro il modello appunto dell'amministrazione spalmata nei confronti dei privati. Abbiate il coraggio di fare una scelta in un territorio dove governate localmente di impedire con ulteriore speculazione i principi su quel territorio. Per cui chiedo appunto che quei lavori vengano sospesi e che vengano ascoltando il parere dei comitati e dei cittadini che non si perde l'occasione di mantenere quei soldi che sono una risorsa per il territorio, ma che quei soldi vengano discussi con i comitati e i cittadini come realizzare i mondiali del luogo perché non c'è problema a realizzare usando gli impianti già esistenti le cinque giornate a mare, non c'è nessun problema, ma per quanto riguarda la realizzazione di un polo pubblico discusso con i cittadini sarebbe il minimo della decenza e della discontinuità col modello di Veltroni che non vi piace tanto. Grazie onorevole Alzetta. Bene, allora vista la confusione che c'è in aula e non certo tra il pubblico vorrei iscrivere i colleghi a parlare. Allora mi ha chiesto la parola De Luca Atos Onorato Gasperini L'onorevole Cochi Quindi esauriamo con l'onorevole Atos De Luca l'onorevole Onorato l'onorevole Gasperini l'onorevole Aurigemma e l'onorevole Cochi Chiudo e l'onorevole Visconti Ho capito l'onorevole Storace e chiude l'onorevole Cochi L'onorevole Storace